Maltempo in Sicilia, travolto da un'onda di fango, trovato morto agente penitenziario a Siracusa. Troppe tasse e il servizio non rende, l'AMAT pronta a cedere le zone blu a Palermo. Lunedì prossimo a Montecitorio il Parlamento della Legalità Internazionale inaugura il nuovo anno accademico. A voi tutti un cordiale saluto, nuova edizione di sabato 26 ottobre, diamo lettura della prima notizia in sequenza. Maltempo in Sicilia, travolto da un'onda di fango, trovato morto agente penitenziario a Siracusa, la vittima, 52 anni, stava percorrendo la statale 115. Fatale l'esondazione del fiume Tellaro. La procura ha aperto un'inchiesta, salvati altri 16 automobilisti tra Noto e Rosolini. L'ondata di maltempo che ha investito il sud-est della Sicilia ha provocato una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato, come disperso, nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco sulla statale tra Noto e Rosolini. La vittima è un agente di polizia penitenziaria. I vigili del fuoco avevano ritrovato la sua auto, una Dacia Sandero e il suo telefonino. L'uomo pare sia sceso spontaneamente dalla sua macchina e dopo essere scivolato da un muretto sia stato trasportato dalla corrente. Le strade di collegamento tra i comuni di Noto, Pachino e Rosolini sono state coperte da fiumi d'acqua al punto da costringere gli automobilisti a trovare riparo in luoghi di fortuna. I vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia hanno soccorso 16 persone, per fortuna tutte tratte in salvo. La provinciale 19, tra Noto e Rosolini, è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. L'allerta a meteo rossa era stata lanciata quasi 48 ore fa e aveva causato la chiusura delle scuole in moltissimi comuni, ma nella prima fase della stessa allerta, temporali e danni erano sembrati più contenuti di quanto atteso. Anche oggi le scuole restano chiuse in molte province. Comunico alla cittadinanza che, dopo una difficilissima notte di lavoro, la protezione civile comunale sta provvedendo alla ricognizione dei danni e alla viabilità su tutto il territorio comunale per una valutazione della richiesta dello stato di calamità, ha spiegato il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti. Ai familiari della vittima, alla vicinanza della comunità netina tutta. Le condizioni meteo sono comunque in miglioramento, ma invito tutti alla massima prudenza, soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua e delle aree allagate. Rinnovo pubblicamente il mio ringraziamento alle donne e agli uomini della protezione civile comunale. La Sicilia penalizzata rispetto al resto d'Italia dalla chiusura progressiva di sempre più sportelli bancari, una situazione che mette in difficoltà gli utenti residenti nei piccoli centri e oggi anche nelle grandi città, la denuncia della Fabi. Una situazione penalizzante per utenti e lavoratori all'interno delle banche in Sicilia. L'abbiamo già denunciata all'Assemblea regionale siciliana, la quale ha approvato due mozioni, una della maggioranza e una dell'opposizione all'unanimità, per ribadire che le banche debbono ripristinare gli sportelli chiusi, non debbono chiudere altre agenzie nei comuni, che debbono assumere personale in Sicilia. Il personale è carente, quindi dobbiamo anche affermare che molte assunzioni sono state fatte nel contesto nazionale, principalmente al nord, e pochissime qui nell'isola. Questa è una discriminazione bella e buona che non tolleriamo, c'è il fondo sull'occupazione che può essere sfruttato, e che le banche facciano quello che non hanno fatto negli anni passati. Ma perché si sta arrivando a questo? Si sta arrivando a questo perché purtroppo negli anni passati sono scomparse gli istituti di credito siciliano, tutto è stato accentrato al nord, principalmente a Milano, e ora ce la fanno pagare. Magari danno delle commesse all'estero e non li danno qui in Sicilia, quindi il personale viene sempre martoriato, molte persone vanno in esodo, anticipato, pensionamenti, e tutto il resto non viene sostituito. Il rischio quale sarà? Il rischio sarà la desistificazione del territorio, praticamente in tanti comuni non ci sono più sportelli bancari, in circa 100 comuni in Sicilia non c'è uno sportello bancario, non c'è un banco, Matt. I poveri vecchietti non sanno che cosa fare, prendono la pensione e debbono spostarsi decine e decine di chilometri per poter utilizzare soldi. A questo punto è intervenuta pure l'Anci Sicilia, l'associazione dei comuni, per dire ciò che diciamo noi, cioè dire che è inammissibile che le banche chiudono gli sportelli nei comuni dove servono, dove danno un servizio sociale alle persone. Unicredit è un istituto che ha investito molto sul territorio, però? Però sta chiudendo troppe agenzie, per esempio nel centro storico di Palermo hanno chiuso l'ultimo in ordine di tempo, quella in corso di Vittorio Emanuele. Accade che i turisti, anche i commercianti, i semplici cittadini, devono fare parecchie centinaia di metri per trovare uno sportello bancario. Questo è inammissibile. Dobbiamo cercare di perseguire meno l'utile economico, di seguire meno gli azionisti e pensare di più ai cittadini, alle persone anziane, alle persone che appunto hanno necessità di avere un presidio bancario. Nasce all'interno della Federazione Sindacale Italiana USAE il coordinamento nazionale della Polizia Penitenziaria. E' Salvatore Sardisco il nuovo coordinatore. Ascoltiamolo. Nasce il sindacato coordinamento nazionale della Polizia Penitenziaria all'interno della FSI USAE che ha sede in Roma e via Margana. Nasce in virtù di una continua collaborazione tra il sindacato FSI USAE e il Parlamento della Legalità Internazionale dove io sono vicepresidente. Perché nasce questa unione? Unione perché abbiamo istituito l'ambasciata dei diritti. Allorché il segretario nazionale Adamo Bonazzi con Paola Saraceni che è coordinatrice nazionale delle funzioni centrali chiede a Salvatore Sardisco di intervenire su un sistema penitenziario che giustamente avrà piccole lacune in questo momento e più che altro nel personale. Abbiamo visto le ultime croniche dove si parla di suicidi, omicidi e tutto quello che viene durante l'arco della giornata dove il poliziotto penitenziario vive all'interno di una città penitenziaria non istituto perché all'interno di un istituto penitenziario non si può immaginare che la pubblica sicurezza che è la polizia penitenziaria deve trasmettere principalmente i diritti fondamentali che sono incise nella Costituzione italiana ma anche la polizia penitenziaria ha dei diritti. Io sarò il coordinatore nazionale solo io adesso cercherò grazie a una riunione tenutasi ieri sera dove i colleghi mi hanno detto si continua e noi saremo con te sono orgoglioso di intraprendere una strada che porterà luce porterà entusiasmo perché il mio modo di fare sindacato è dialogo apertura al marketing della polizia penitenziaria perché è importante per conoscere ancora di più questo corpo non soltanto nelle croniche ma sicuramente nelle attività giornaliere che si svolgono che sono quelle che definiscono un corpo di polizia penitenziaria militarmente organizzato ne sono fiere ho 30 anni di servizio posso fare la mia parte grazie a voi colleghi che mi state ascoltando contribuiamo insieme per raggiungere un obiettivo che è quello della salute della serenità della tranquillità quotidiana anche nelle nostre famiglie troppe tasse troppe tasse e il servizio non rende l'amat pronta a cedere le zone blu a Palermo l'amministratore unico Michele Cimino apre la chiarella con il comune il sottile margine di guadagno dato dalla vendita delle schede viene oltremodo eroso dalle imposte sul suolo pubblico e sui rifiuti l'amat minaccia di fare un passo indietro sul controllo della sosta tariffata le cosiddette zone blu la decisione al vaio dell'amministratore unico Michele Cimino che ha riunito i dirigenti per fare il punto sullo sviluppo del piano di risanamento e mettere in campo di conseguenza un percorso virtuoso con l'obiettivo di eliminare le diseconomie in alcuni servizi creare efficienza e raggiungere il pareggio di bilancio nel caso della sosta tariffata all'azienda che ha come entrate soltanto i proventi della vendita delle schede parcheggio ogni anno il comune chiede il pagamento di Tosa per Tarsu sugli stalli di sosta in sostanza spiega Cimino il sottile margine di guadagno dato dalla vendita delle schede parcheggio che serve a mantenere in equilibrio il servizio di controllo sulle zone tariffate viene oltre modo eroso dalle imposte sul suolo pubblico e sui rifiuti su questo argomento precisa l'azienda ha acceso diversi ricorsi per incoerenza dell'imposizione fiscale essendo il comune il socio unico di Amat è urgente e opportuno aprire una discussione con il comune spero nei prossimi giorni per risolvere definitivamente questo problema altrimenti saremo costretti a lasciare il controllo delle zone blu paghiamo troppe tasse e il servizio non rende l'Amat dichiara Concetta Mella capogruppo del Movimento 5 Stelle è pronta ad abbandonare la gestione tariffata dei parcheggi nelle zone blu perché il comparto risulta in forte perdita gli introiti infatti non hanno mai raggiunto quelli immaginati nel piano di risanamento e mentre i ricavi provengono soltanto dalla vendita delle schede per il parcheggio il comune per altro socio unico impone il pagamento di Tosa per Tarsu sugli stalli di sosta la mia preoccupazione riguarda anche il futuro del personale Amat che finora è stato assegnato alla zona traffico limitato Statistica a Palermo sono già 2.500 le famiglie che hanno partecipato al censimento permanente della popolazione 2019 sono già 2.500 le famiglie che hanno partecipato al censimento permanente rispondendo alle domande contenute nel questionario di rilevazione il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni strumento fondamentale per misurare le principali caratteristiche socio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in Italia è stato avviato lo scorso primo ottobre e prevede lo svolgimento di due rilevazioni la rilevazione reale è quella lista le famiglie coinvolte nelle due rilevazioni sono complessivamente circa 9.000 su un totale di circa 260 famiglie residenti a Palermo le modalità di partecipazione delle famiglie sono diverse e variano in funzione sia della specifica indagine in cui sono coinvolte che dalla particolare fase della rilevazione in corso la rilevazione reale prevede che i rilevatori incaricati dal comune si arrechino presso le famiglie dimoranti in uno degli indirizzi che rientrano nel campione e procedono all'intervista quella da lista prevede che le famiglie coinvolte nella rilevazione ricevano una lettera ufficiale a firma del presidente dell'istat e un pieghevole informativo la lettera fornisce le credenziali di accesso al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenze e chiarimenti il pieghevole contiene informazioni utili sul censimento e a partire dallo scorso 7 ottobre le famiglie campione della rilevazione da lista possono compilare il questionario online utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta o in alternativa possono recarsi presso uno dei centri comunali di rilevazione che rimangono attivi per tutta la durata dell'operazione censuaria a partire dal prossimo 8 novembre fino al 20 dicembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario verranno contattate da un rilevatore incaricato al comune che procederà all'intervista con l'ausilio di un tablet partecipare al censimento è un obbligo di legge Palermo manifestazione si resti a Rinesci ideata per fermare l'immigrazione giovanile questi giovani si interrogano oggi se vivere o meno in Sicilia sia ancora possibile qual è la sua opinione in merito? questi giovani sono giovani che cercano futuro e speranza per loro e per la Sicilia e la Chiesa è con loro perché assistiamo a una desertificazione dei giovani soprattutto nelle zone dell'interno e invece la Sicilia per avere un futuro degno della sua tradizione ha bisogno che i giovani restino in Sicilia a lavorare a studiare in Sicilia e a investire in Sicilia per questo è importante che le istituzioni facciano quello che devono fare per un rilancio economico della Sicilia ma è importante anche che si educano i giovani a una cultura del lavoro dell'impresa e della cooperazione bisogna invertire il passo si è liberi di lasciare la Sicilia ma non si può essere costretti a maggior ragione perché la Sicilia ha una potenzialità dal punto di vista dell'impiego dal punto di vista lavorativo che oggi purtroppo non è assolutamente valorizzata e quindi è chiaro che bisogna toccare i veri problemi della polis della città è chiaro che c'è bisogno di una politica che si riappropri dei problemi reali stando in mezzo alla gente il punto di non ritorno è mai stato superato e quindi è difficilissimo riuscire ad affrontare questo problema con serietà però se ci mettiamo insieme tutti tutte le forze politiche sociali economiche io sono convinto che ancora l'80% si può riuscire a recuperare se noi diamo speranza ai nostri giovani con frutti con proposte io sono convinto che si può fare molto di più di quello che ancora oggi non si fa purtroppo non è pensabile che in una terra come questa dove ogni giorno centinaia di ragazzi vanno via in 15 anni sono andati via due milioni di persone di questi la metà sono giovani è impensabile che quel palazzo continui ad arroccarsi sui temi dei privilegi sui temi dei vitalizi ci sono questi ragazzi che probabilmente un diritto alla pensione non lo matureranno mai non si capisce perché si deve garantire che qualcuno solo perché ha fatto il parlamentare per pochi mesi o per pochi anni debba continuare a percepire quei privilegi lunedì prossimo a Montecitorio Parlamento della Legalità Internazionale che inaugura il nuovo anno accademico con studenti da tutta Italia il Parlamento della Legalità lunedì torna a Montecitorio è un appuntamento ormai fisso ogni anno noi andiamo lì dopo che diamo vita prima al convegno nazionale che svolgiamo nel nostro territorio palermitano principalmente a Monreale poi segue l'inaugurazione dell'anno scolastico con il Presidente della Repubblica e poi il nostro appuntamento arriveranno studenti da tutta Italia dalla Lombardia alla Lazio dalla Campania alla Puglia a Basilicata a Sicilia ma anche una delegazione che arriverà quest'anno dal Cairo anche dall'India con l'unico obiettivo di riproporre quel progetto formativo culturale biennale che ha come slogan Ricercatori dell'Alba che già abbiamo consegnato al Papa Francesco e anche al Presidente della Repubblica ma ancora una volta i ragazzi saranno i veri e gli unici protagonisti quando ci chiedono chi saranno le personalità che interverranno diciamo i bambini i giovani gli adolescenti tutti coloro che hanno a cuore la bellezza della Sicilia dell'Italia e principalmente lasciatemelo dire il sangue dei martiri perché noi ci stiamo scherzando troppo sulla parola legalità la stiamo usando semplicemente per nascondere non so che cosa invece dovremmo avere lo sguardo rivolto a tutti quei crocivia delle nostre zone dove si ricorda che veramente nessuna notte deve essere così lunga da impedire al giorno di ritornare noi lo faremo ricordando un magistrato che è stato ucciso prima di Falcone e Borsellino è il procuratore Scaglione ed è bello perché stiamo notando come studenti da tutta Italia stanno approfondendo la figura del procuratore Scaglione poi ricorderemo anche altre figure i ragazzi canteranno la bellezza della vita e sarà un momento anche per presentare come stiamo facendo col tour il libro profeticamente scomodi dove viene messa in risalto la bella figura di Don Tonino Bell ma principalmente l'entusiasmo di chi crede che la legalità vera parte dal cuore da un animo pulito per poi essere credibile altrimenti è solo passerella a concludere si parla di giovani distratti voi invece siete riusciti a coinvolgere anno dopo anno sempre più giovani ma è una verità e io la ringrazio per quello che lei sottolinea perché noi a costo zero io ci tengo a sottolinearlo questo stiamo vedendo come ragazzi stanno partendo da Canicattì da Ravanusa da Monza da quest'anno abbiamo pure una bella scuola che arriva da Arezzo e Pullman che stanno partendo dalla Campania ma con tanta di quella gioia di quell'entusiasmo che abbiamo avuto problemi insieme al vicepresidente Sardisco di bloccare bloccare tanto entusiasmo stavano ma guardate avemmo riempito San Siro perché perché l'entusiasmo è così grande perché dove c'è passione volontà impegno solarità ed entusiasmo i ragazzi ci credono e vedete questa è l'espressione bellissima lo dico con molta commozione anche di quell'espressione che disse Paolo Borsellino ricordando Giovanni Falcone noi abbiamo un grande debito lo dobbiamo pagare gioiosamente perché solo se riusciamo a sostituire al puzzo del compromesso il fresco del profumo di libertà saremo credibili e saremo anche entusiasti e pieni di gioia domani a Bagheria nell'ambito della terza stagione concertistica l'esibizione del coro delle voci bianche del conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo diretto da Antonio Sottile nella chiesa di San Pietro Apostolo Siamo contenti di tornare è un luogo pieno di vivacità musicale quindi abbiamo una ragione in più per far bene Domenica a San Pietro Sì è una chiesa molto interessante dal punto di vista dell'acustica siamo stati diverse volte nel corso di questi anni e quindi saremo ben felici di esserci Quanti elementi saranno presenti di questi giovani talenti? All'incirca una settantina tra 60 e 70 dipenderà dalla salute visto che c'è questo tempaccio speriamo che vada tutto bene Quale sarà il repertorio? È un repertorio antologico che va da Bach fino ai contemporanei di questa è una come posso dire una formazione che ha la musica come fatto sia artistico ma anche soprattutto come fatto educativo è fondamentale l'aggregazione umana Come ci si avvicina al conservatorio? Beh è un'istituzione che ha 400 anni di vita quindi è sempre stata l'anima musicale della città Ma un giovane come si avvicina alla musica al conservatorio ma soprattutto alla musica classica? Guardi cosa vuole che le dica io ecco ci vorrebbe sicuramente più più attenzione e più promozione perché a volte una istituzione così bella non è non è tanto seguita invece bisogna fare in modo che che questa che questo organismo venga veramente ulteriormente valorizzato La musica classica sta tornando in auge anche tra i giovanissimi Beh certamente anche perché è un periodo di stanca dal punto di vista della creatività della musica leggera quindi ci si rifugia a ragione nel mondo della classicità Successo ieri sera per il resital del mezzo soprano svedese Anne-Sophie von Otter al Teatro Massimo di Palermo Applausi e due bis ieri sera nella sala grande del Teatro Massimo di Palermo in occasione del World Opera Day a conclusione del recital di Anne-Sophie von Otter con il chitarrista Mats Bergström e il pianista Leif Kanner Lindström era la prima volta che si esibiva a Palermo il famoso mezzo soprano svedese attesa con ansia degli appassionati il programma spaziato dai grandi classici del repertorio leaderistico da Schubert a Debussy a brani poco conosciuti di autori nordici come gli svedesi Ture Rangström e Willem Stenmar e il finlandese Unto Mononen e poi il repertorio pop con una canzone di Benny Anderson membro fondatore autore di molte canzoni degli hub ma anche Moon River di Henry Mancini Sister Moon di Il Sting e Life on Mars di David Bowie la seconda parte del programma è stato poi interamente dedicato alla notte e alla luna spaziando dalla musica rinascimentale barocca al pop e alla musica contemporanea dalla Ninna Nanna di Arnalta nell'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi alla già citata Sister Moon due bis a conclusione del programma Si dolce il tormento di Monteverdi e Mamma accompagnati in conclusione da un gesto espressivo di Dedica Montecchir di Milnoi sta a di io sport presentata alla nuova stagione della Palacanestro Bagheria 92 che quest'anno disputerà la Serie D dopo la promozione dello scorso anno presente il team guidato da Angelo Licker insieme alle squadre giovanili Abbiamo diciamo chiamato a raccolta tutti i ragazzini presenteremo pure tutte le varie squadre le formazioni della nostra associazione dal mini basket quindi bimbi pulcini di 5 anni a salire fino appunto alla prima squadra alla Serie D dal lontano 92 che facciamo attività abbiamo potenziato sempre la nostra attività in termini di numeri di qualità del lavoro che facciamo grazie anche alle varie amministrazioni comunali che si sono succedute col tempo e ci hanno riconosciuto insomma hanno riconosciuto il nostro impegno dandoci la possibilità anche di utilizzare le strutture comunali è un campionato importante intanto perché è inflazionato da molti straniere quindi la qualità aumenta e noi come realtà solo locale ce la metteremo tutta sotto l'aspetto mentale sotto l'aspetto dello spirito poi grazie a questa realtà dinamica che si sta muovendo a bagheria cercheremo sempre di rafforzare la base sia societaria che strutturale è composta da diversi tecnici quasi una decina di tecnici quindi questo è come auspicio per fare bene nel nostro futuro ma l'obiettivo è prima la salvezza se arrivano i playoff è tanto di guadagnato però diciamo che la qualità è alta e quindi dobbiamo lavorare tanto per noi il campionato che stiamo facendo rappresenta come dire un come dire l'aspetto più importante della nostra attività ma in effetti quella a cui noi teniamo moltissimo è l'avviamento allo sport dei ragazzi questa è la nostra missione la missione che abbiamo sempre portato avanti e quest'anno non per la prima volta ma per la seconda volta facciamo un campionato a livello regionale con tutti i ragazzi che sono cresciuti nella nostra società sono tutti i ragazzi che sono cresciuti con noi quindi speriamo di fare ancora per tanti anni cose buone come abbiamo fatto e soprattutto essere di esempio dei ragazzi che vengono e si avviano non allo sport ma alla pallacanestro che è uno sport vi ringraziamo per la gentile attenzione prestata vi auguriamo un sereno fine settimana grazie a tutti Grazie a tutti.